Se volete acquistare i crediti passate da FIFA Coin Zone, sono veloci, sicuri e con ottimo prezzo. E con il codice CUPON GIOVISPO otterrete 5% di sconto. Troverete il link qui sotto in descrizione. Salve a tutti ragazzi, belli e brutti e miscritti più di tutti, bentornati su Giovecchia di Spò. Io sono Giovi Spò e questo è l'ennesimo e secondo episodio della serie Scontro tra Titani, stagione numero 3, con Antonio Di Natale e Silvio come titano di questa serie. Questa serie si baserà sul numero di gold di Di Natale, così. 0-goal giocatore Argento, 1-goal giocatore Oro, 2-goal giocatore If, 3-goal giocatore Toz e 4-goal giocatore a scelto che può essere un Meno de Match, un International Meno de Match e quant'altro, un If, a nostro piacimento. Questa serie è fatta in collaborazione con FIFA Carlo Furtini Italia e dunque, nello scorso episodio ho chiesto di scegliere tra Antonini e D'Ambrosio e voi avete scelto il terzino sinistro, italiano naturalmente. Per un pelo, per un solo voto, ha vinto, ha vinto, dai, dai, Antonini, ve lo dico già, ve lo dico già, Antonini. Antonini buono, buona velocità, buona difesa, buona testa. E dunque andiamo a disputare la partita amichevole, così, se si può dire, di oggi. Sani, ha una squadra a bronzo, totalmente bronzo rara, inglese, che nazionalità, belgio, e basta. Non conosco nessuno di questi, quindi direi di andare direttamente per la testa. Il cercherini che la passa al volo, Sani, bella rete, questa di Sani, bellissima questa rete, questo tiro semi-aria, semi-volo, semi-rovesciata. Vi vediamo il reto lì, veramente bello, il corner, il passaggio di testa al volo, di destro, la segna Sani. Vi vediamo ancora, il portiere non può nulla, 1-0, mamma mia, bella no, vai, esci il portiere, domani è Pasqua, domani è festa, vaffanculo difensore di merda. Dai muovo, minchia, mamma, manco, vai, Di Natale, il tiro di Di Natale, la barata del portiere, Di Natale c'è e si vede. Assiste quasi gol, diciamo, insomma, ancora Di Natale, di Natale, ceccherini, Di Natale, il tiro di Di Natale, Di Natale, vai così, Antonio, Di Natale, Tonino, Totò Di Natale, ci permette, almeno, il giocatore grandissimo, il destro ad incrociare, nulla a quel portiere, vai così, Tonino, faccia almeno un altro gol, dai così, Tonino, vai così. No, non mi piace, l'ho detto io che non mi piace, non mi piace, mamma mia, non mi piace, affatto, questo pottuto gol di merda. Vai di Natale, vai di Natale, segna di Natale, ma vaffanculo, dai, a tu per tu col portiere sbagli, e vabbè, allora, è proprio che sei tu così, è la miseria. No, 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 perché l'hai toccata, perché l'hai presa, la male, porca troia, l'hai dato il vantaggio, ah, la miseria ladra. Eh sì, doppia munizione, espulsione, vaffanculo, di Natale mi sbaglio davanti al portiere, mamma, un portiere bronzo, eh, non è neanche un portiere, chissà che cazzo quanto è forte. Sì, che cazzo ci vuole assegnare un rito, bravo questo portiere, capisce tutto, bravo, bravo, e dunque, non so se continuare, oppure finirla qui la partita. Ma credo, dai, la finisco qui la partita, si finisce il 2 a 2, è un solo gol di Natale, e dunque, tra poco vi dirò fra quali dei due giocatori potrete scegliere, rimanete qui. Allora, potrete scegliere tra due cc, e sono uno è Arturo Vidal, e l'altro è Claudio Marchisi. Dunque, commentate qui sotto con la vostra scelta, scegliendo un nome tra questi due, lasciate un bel pollice all'insù se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se non siete già iscritti, qui è Giovispo, vi saluto e vi ringrazio, ci vediamo alla prossima con un nuovo video, ciao e alla prossima.